signore e signori buonasera benvenuti a casa mia benvenuti ancora di nuovo ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria con un video in cui parliamo di economia industriale in un video in cui parliamo dell'economia bellica del terzo reich per la precisione con l'aiuto di questo libro scritto dall'amico giovanni cecini l'incredibile storia della seconda guerra mondiale c'è un capitolo in questo libro in cui si parla della guerra industriale della guerra industriale del terzo reich giovanni cecini in questo libro analizza brevemente in maniera molto chiara in maniera molto sintetica ma al contempo illuminante dati fattori cause motivi e i diversi modi in cui i contendenti si approcciarono alla guerra più di una volta nei miei video nei commenti sotto i miei video e durante le mie dirette mi hanno chiesto come funzionava l'economia del reich l'economia di guerra del reich e credo che giovanni cecini in questo libro ce ne abbia dato una spiegazione a dir poco fenomeno a dir poco chiarissima perché praticamente andiamo al 1940 allora durante il periodo della cosiddetta phoney war la dolde guerre la guerra finta insomma il breve periodo tra settembre 1940 e ma tra settembre 39 e maggio 1940 in cui i gli anglo francesi se ne stettero fermi dietro la linea magino mentre i tedeschi si preparavano al all'invasione del belgio e al e al colpo che avrebbe fatto collassare la francia allora dicevo l'opinione pubblica inglese pensò che la germania sarebbe crollata economicamente grazie al supposto logorio interno e al blocco navale non era quindi necessario combattere sul reno piuttosto sarebbe stato sufficiente agire indirettamente sulla sorte politica del reich in gran bretagna si era convinti che il popolo tedesco vivesse nell'indigenza gli inglesi capirono ben presto che sarebbero stati loro a dover subire gravi sacrifici ricordatevi il famoso non ha il famoso discorso non ho altro da offrirvi che non lacrime sudore e sangue churchill aveva detta giusta allora e quella questa situazione fu dovuta al fatto che hitler aveva imposto il riarmo al suo popolo riducendo le libertà personali ma senza metterlo in condizioni di dover abbassare il proprio tenore di vita che infatti addirittura nel secondo semestre 1940 salì dopo la conferenza di monaco londra sovrastimò sempre il livello del riarmo tedesco che invece si assestò sul mero utilizzo immediato e reiterato non potendo prevedere una riserva troppo ampia per una guerra prolungata quest'ultima si realizzò proprio in funzione della ricerca costante di nuove risorse vi ricordate quando ho descritto l'economia della germania nazista come un'economia parassitaria e vampirica ecco in buona sostanza lo stesso sforzo bellico tedesco alimentava altro sforzo bellico in tale circolo virtuoso o vizioso secondo i punti di vista la germania avrebbe continuato la guerra proprio per rafforzare la sua posizione economica e garantirsi una migliore posizione negoziale al momento dell'esaurimento di tutte le energie degli avversari a berlino nessuno si dimenticò il 1918 quando le industrie dichiararono la fine della guerra quando le truppe tedesche erano su tutti i fronti ancora in territorio nemico scusate allora una regola aurea del pensiero nazista era quello che mancava diventava automaticamente l'oggetto del desiderio e quindi l'aggredibile obiettivo successivo da poter ottenere attraverso il saccheggio e la rapina ve lo ricordo allora una regola aurea lo ripeto regola aurea del pensiero nazista era quello che mancava diveniva automaticamente l'oggetto del desiderio e quindi l'aggredibile obiettivo successivo da poter ottenere attraverso il saccheggio e la rapina ripeto si comportavano la germania nazista si comportava né più né meno come un vampiro un predatore nel frattempo tutta la produzione nazionale fu convertita alla guerra e per la guerra a titolo d'esempio possiamo citare il caso dei fratelli rudolf futuro fondatore della puma e adolf dassler futuro fondatore dell'adidas indotti più o meno coattivamente alla trasformazione della precedente fabbricazione di scarpe sportive in quella di lanciarazzi ebbene sì la puma e l'adidas fabbricavano panzer faust in pratica ecco del resto la logica della blitzkrieg in sequenza imponeva un ciclo produttivo simile alla semina e alla raccolta dei campi per i primi due anni di guerra si seguì l'alternanza tra momenti per combattere primavera estate e altri autunno inverno per recuperare le forze la produzione di munizioni fu ridotta infatti nell'autunno 1940 e di nuovo verso la fine dell'estate del 1941 in pieno operazione barbarossa ecco a quell'epoca hitler ritenne la russia battibile entro la stagione successiva e pertanto in quel periodo la produzione tedesca di munizioni fu ridotta del 40 per cento nella convinzione che quantità che quantità maggiori non sarebbero state necessarie ai 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 proseguì invece la costruzione di autostrade e fu dato inizio all'esecuzione dei grandiosi piani urbanistici che hitler con il suo architetto personale sper avevano in mente per una nuova berlino tornata a pieno titolo sontuosa capitale del reich il popolo tedesco doveva pensare che la guerra fosse di fatto finita e il genio artistico di sper che oltre al citato ruolo di ministro degli armamenti e della produzione bellica univa insieme quello ripeto di architetto personale di hitler venne in tal senso indirizzato esaminato il discorso di lungo periodo ora si può analizzare il relativo crono programma prima grande tappa del consolamento economico del consolidamento scusate economico del reich fu il patto ribentrop molotov fino allora l'accordo nazi sovietico sotto l'aspetto politico e diplomatico è ben noto e in genere come dire la comune attribuzione su e prima di quell'infelice trovata del parlamento europeo di definirlo causa della seconda guerra mondiale insomma sappiamo bene che era una cosa che conveniva molto a tutti e due i contendenti ok produsse innumerevoli vantaggi per i due paesi tra cui proprio quelli economici dato che c'era il blocco da parte dei dei paesi occidentali la germania riuscì per quasi due anni a ottenere da oriente una quantità inesauribile di materie prime ed errate alimentari tali da garantirle la prosecuzione della guerra quello che non veniva prodotto in unione sovietico in unione sovietica poteva essere ordinato dai tedeschi altrove ad esempio la gomma del sudest asiatico e transitare comunque per i territori russi per ironia della sorte mosca si sarebbe trovata aggredita proprio in virtù di tutti questi vantaggi economico commerciali concessi al reich fu quindi un'autentica pugnalata alla schiena molto più meschina e molto più crudele di quello che comunemente si possa credere una seconda tappa dell'ascesa economica tedesca fu l'attacco alla norvegia finalizzato a garantirsi i rifornimenti dei minerali di ferro svedesi nei mesi invernali in transito dal porto norvegese di narvik perché ricordatevi la costa norvegese grazie alla corrente del golfo non gela mai il baltico sì e quindi i minerali di ferro svedesi non riuscivano ad arrivare non riuscivano ad arrivare alla germania per colpa del ghiaccio gran bretagna e francia si spinsero sulle coste scandinave per il motivo opposto sapevano che solo fermando le materie prime dirette in germania si sarebbe potuto far crollare la produzione industriale germanica churchill ipotizzò da principio il minamento delle acque norvegesi e l'occupazione della stessa narvik ma il governo inglese respinse il progetto perché questioni politiche e diplomatiche anche se churchill si scoprì che aveva ragione ma diciamo sei rappresenti la democrazia non puoi certo comportarti in maniera predatoria come come i tedeschi ecco dell'occupazione di belgio lussemburgo e olanda e della francia c'è poco da dire venne instaurato un vessatorio regime d'occupazione finalizzato appunto al prelievo forzoso di tutto l'occorrente per la prosecuzione del conflitto belgio olanda francia e lussemburgo furono letteralmente spogliati per poter garantire lo sforzo bellico tedesco tale sistema si sarebbe sarebbe stato esteso anche a tutti i successivi altri stati invasi o satelliti e ne facemmo anche noi le spese a partire dall'estate del 1940 la germania creò di fatto un sistema integrato europeo di produzione e stoccaggio funzionale ai propri propositi bellici questo ebbe ancora più valore proprio in coincidenza contro con l'attacco alla russia quando l'accerchiamento economico del grande reich fu completo e l'unica salvezza e divenne quindi l'autarchia continentale ogni comunità nazionale satellite avrebbe dovuto offrire alla causa nazista quello che aveva la neutrale svezia avrebbe offerto il ferro la romania il petrolio eccetera 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 chi non poteva offrire nessuna materia prima o le industrie per trasformarle di fatti i francesi le industrie pesanti francesi lavoravano tutte per la germania tutte dalla schneider le creso alle alle industrie aeronautiche tutta l'industria francese lavorava per la germania dalla renault si trovano tutte le industrie francesi lavoravano per la germania ok e chi non poteva offrire ripeto nessuna materia prima o le o le industrie per trasformarle doveva contribuire con la massa umana sempre più necessaria ai fini di un regime che disprezzava la vita di tutti quelli che non erano tedeschi quindi rassegnatevi cari fans del monopalla del monopalla boemo cari fans italiani voi non sareste stati membri e sottolineo membri della razza padrona ma sareste finiti probabilmente a dacau a spaccare pietre con la testa e raccogliere con le natiche ok allora il reich avviò quello che in maniera pittoresca e decisamente ironica se vogliamo venne chiamato ordine nuovo finalizzato a concentrare verso il centro geografico ovvero sia la stessa germania tutti gli apparati industriali relegando la periferia amere colonie o a stati fantoccio vedi per esempio la repubblica sociale italiana e colonie destinate alla produzione agricola di sostentamento per tutto il nuovo impero fu così che la precettazione per la macchina industriale tedesca si aggirò intorno ai 7 milioni e mezzo di lavoratori stranieri in questo modo era possibile svincolare gli operai tedeschi da destinare invece al fronte come forza combattente nel 1943 la germania aveva in armi 9 milioni e mezzo di uomini e il sistema dei campi di concentramento era anch'esso funzionale alla produzione bellica ma solo fino ad un certo punto se ebrei slavi o comunisti iniziarono a svolgere in qualità di nuovi schiavi attività ausiliarie alla produzione tedesca quello che veniva richiesto loro era sempre la bassa manovalanza anche in sostituzione della forza animale cioè tirare i carretti al posto dei cavalli per dire e animali che potevano essere impiegati meglio altrove perché ricordiamoci gran parte della logistica tedesca si muoveva a cavallo e i cavalli servivano al fronte quindi se tu devi tirare dei carretti dei carri del materiale in una fabbrica usiamo gli schiavi ecco non era opportuno che gli schiavi ebrei slavi e comunisti lavorassero in progetti di alta specializzazione soprattutto perché la loro vita era considerata nulla niente niente tanto da divenire giorno dopo giorno oggetto di vessazioni gratuite fino all'inevitabile morte per stenti perché ricordiamoci una cosa i sopravvissuti ai lager coloro che dopo la fine della guerra erano sopravvissuti ai lager pochissimi erano nei lager da prima del 1944 la sopravvivenza media di un prigioniero in un lager tedesco era sienò di un anno e mezzo ok a differenza dello schiavo la cui vita avrebbe avuto comunque un valore economico ebrei e slavi venivano considerati meri corpi ambulanti da poter sfruttare solo in attesa dell'inevitabile morte ricordatevi quando vi ho sempre parlato del sistema industriale dello sterminio ok se volessimo dare un nome a questo sistema economico che intendeva superare il tradizionale concetto di capitalismo trasformando i campi di concentramento in prototipi di industrie sociali potremmo usare l'espressione fabbrica del terrore boiardi di stato funzionari e burocrati erano insomma tutti ingranaggi di un sistema di tipo fordiano insomma del sistema industriale creato da ford in cui i numeri dovevano sempre quadrare secondo una teutonica precisione contabile ricordatevi le tonnellate e tonnellate di documenti reperite dagli alleati cercate nel video la contabilità dello sterminio lì c'è tutto ok a titolo ad esempio la wehrmacht nel solo anno 1943 ordinò oltre 4 milioni di forbici e più di 6 milioni di tamponi per timbri ecco carte 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 la burocrazia deve dimostrare di lavorare le carte fanno girare la macchina la burocrazia dirige la macchina e la burocrazia si alimenta di carte carte che poi ci sono state tramandate ecco il regista occulto di tutto questo sistema economico fu Speer che divenne sempre più potente perché il precedente ministro degli armamenti e della produzione bellica ovvero fritz tot sul finire del 1941 aveva espresso al führer i suoi dubbi a proposito della sostenibilità della prosecuzione bellica sul piano economico industriale tot morì in un incidente aereo che alcuni definiscono sospetto e Speer prese il suo posto diventando il secondo dittatore della germania ovvero sia il dittatore economico della germania egli avvocò a sé tutta la gestione non solo produttiva ma anche programmatica di tutta l'economia tedesca era assodato che la germania non avrebbe potuto per il momento vincere la guerra l'obiettivo diventò quello di resistere il più possibile contando di ribaltare a livello politico la sconfitta militare ormai chiara a tutti Speer insomma era un diabolico manager oltre che un convinto esteta dell'ideologia nazista fu tra l'altro lui a mettere in piedi il sistema di economia su scala continentale basato sui suddetti milioni sette milioni sette milioni e mezzo di lavoratori coatti in germania ok allora un'ulteriore tappa del percorso economico del reich nazista fu la campagna di russia e qui si deve accennare al ruolo esclusivamente economico di questa campagna nell'ambito della dell'economia del sistema economico e industriale tedesco allora avvantaggiandosi della conquista dell'unione sovietica la germania non solo avrebbe assommato un potere economico mai raggiunto da una singola potenza in epoca moderna o contemporanea essa avrebbe pure rimpinguato il numero di braccia necessarie per la sopravvivenza stessa di tutto l'accresciuto apparato del grande reich ecco perché io dico che i nazisti polacchi o i nazisti ucraini non sono propriamente intelligenti ecco va bene l'importanza data dal nazismo al fattore economico fu fu evidenziata poi dal fatto che la pianificazione bellica venisse affiancata da un grandioso programma gestionale indipendente da quello prettamente militare dello sfruttamento coloniale delle riserve presenti in territorio russo la cosiddetta operazione oldenburg essa prevedeva la germanizzazione di gran parte della russia europea e della siberia occidentale lasciando gli altri residuali territori ex sovietici a nazioni fiancheggiatrici pure il duce voleva la sua fetta di torta va bene tuttavia nonostante le enormi conquiste economico industriali ottenute con il tanto ambito lebensraum lo spazio vitale nel frattempo le unioni sovietic l'unione sulle autorità sovietiche avevano ordinato la politica della terra bruciata fu così che solo una minoritaria parte della ricchezza russa arrivò effettivamente nelle esauste casse del reich dighe idroelettriche linee ferroviarie ponti depositi scorte di viveri vennero sistematicamente fatte saltare o bruciate dalla popolazione sovietica e dalle truppe dell'armata russa in rotta il nemico non deve trovare niente il nemico si arrangi allora nel mentre come ben sapete il governo russo attuò in parte un piano un piano in parte programmato indipendentemente dal conflitto già dalla fine degli anni 30 il cremlino ovvero sia peppe acciaio baffone fumatore dunil e aveva allestito una nuova regione industriale al sicuro al di là degli urali nel 1941 i nuovi centri industriali al di là degli urali sfornavano in autonomia circa un terzo della produzione sovietica e fu così che quando i tedeschi attuarono il loro attacco proditorio il sistema comunista era già orientato nella direzione di sottrarre il proprio cuore economico all'invasore peppe acciaio stupido non era oggettivamente e chi era ai suoi ordini a parte i cretini come budionni insomma stupidi non dovevano essere ecco allora durante l'operazione barbarossa molti macchinari o intere fabbriche con annessi operai dall'ucraina vennero in modo ordinato nel modo più ordinato possibile perché anche lì insomma era inevitabile che ci fosse del caos dei problemi insomma un'operazione titanica lo spostamento delle risorse industriali sovietiche oltre gli urali fu un'impresa a dir poco titanica fu un'impresa a dir poco titanica che salvò realmente le natiche all'unione sovietica ecco la logistica funzionò piuttosto bene funzionò come un orologio se si pensa che per trasferire ciascun impianto di media portata erano necessari circa 8.000 carri ferroviari oltre al tempo tecnico per rimettere in funzione l'intero apparato una volta arrivato a destinazione grazie a questo mentre il paese fu sostentato di massima con gli aiuti economici e tecnici americani nel 1942 quindi pochi mesi dopo barbarossa l'intero apparato industriale sovietico riuscì a mettere in linea 2.000 carri armati e 3.000 aerei ma non all'anno no al mese mentre noi facevamo fatica a produrre 2.500 carri M in tre anni e 12.000 aerei 1.200 dei quali MC 202 e quasi 2.000 dei quali FIA CR 42 lasciamo perdere tutte risorse funzionali al proseguimento della grande guerra patriottica a tutto questo la Wehrmacht tentò di ovviare mediante la sistematica tecnica della rapina e del saccheggio a danno della produzione locale residua in effetti come già si può insomma come si può immaginare il grande problema della Russia sarebbe stato sempre quello alimentare non era possibile delocalizzare anche l'agricoltura dato che la maggior parte dei contadini era stata chiamata alle armi e la maggior parte degli appezzamenti fertili Bielorussia, Ucraina, Russia Europea, Crimea cioè era la zona fertile dell'Unione Sovietica e cadde in mano ai tedeschi quelle zone furono occupate o distrutte dai tedeschi o la tecnica della terra bruciata fu così che se l'industria ebbe sempre livelli sempre più alti di produzioni anche superiori al periodo prebellico nonostante tutta la baracca spostata verso 8000 treni per un impianto di medie dimensioni 8000 vagoni per trasferire un solo impianto oltre gli Urali non so se rendo l'idea e si parla di migliaia di chilometri insomma un miracolo di logistica la logistica, logistica la logistica sovietica funzionò in maniera praticamente perfetta durante l'evacuazione delle fabbriche i raccolti agricoli comunque sia ripeto ebbero un crescente tracollo si venne dunque ad attuare l'ulteriore obiettivo bellico del Reich quello che nella testa di Hitler e di tutto il partito nazista e anche di gran parte dei bravi tedeschi era il programma principale la morte sistematica per fame di milioni di russi ritenendolo funzionale al più ampio programma di germanizzazione della Russia europea al netto di questi diabolici proponimenti arrivati al finire quando si arriva alla fine del 42 Hitler comprese che non era più possibile vincere militarmente ripiego strategico fu quindi la distruzione fisica di tutte le popolazioni ritenute inferiori capitolo finale di questo apocalittico orrore fu la proclamazione il 29 aprile 1945 del cosiddetto Nero Befel il cosiddetto Ordine Nerone con i russi già nei suborghi di Berlino l'Ordine Nerone prevedeva la distruzione delle strutture vitali della propria nazione si riproponeva insomma la strategia di terra bruciata ma questa volta ammantata dalla tradizione nibelungica di espiazione mistica collettiva insomma le parole di Giovanni Cecini vorrei dire che sono assolutamente esemplari per chiarezza e semplicità di comprensione l'economia nazista come ho sempre detto nei miei video nelle mie dirette era un'economia parassitaria era un'ecomonia buonasera un'ecomonia ma mi dite che cavolo c'ho a volte cioè che non riesco mi si inceppa la lingua non so dire aerodinamico non so dire vabbè scusate dicevo un'economia vampirica un'economia parassitaria un'economia di sfruttamento le colonie periferiche che lavorano solo ed esclusivamente per la maggior gloria del Reich 7 milioni e mezzo di lavoratori stranieri per poter mandare i tedeschi al fronte eccetera 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 l'industrializzazione dello sterminio ebrei slavi comunisti oppositori veri o presunti schiavizzati e usati né più né meno come animali da soma fino allo sfinimento fino alla brutale sfinimento fino alla morte per consunzione per il lavoro per il lavoro forzato che lavoravano per il Reich i lavoratori schiavi alla fine della guerra però furono addirittura costretti a utilizzare i prigionieri dei lager come operai perché non c'era più niente i tedeschi combattevano non c'era mano d'opera a sufficienza cioè tanto per dirne una primo Levi in nel suo se questo è un uomo racconta di come i tedeschi lo presero a lavorare nella fabbrica di gomma sintetica di Bünamonowicz in cui e questo gli salvò la vita perché era un chimico era diventato tra virgolette importante era diventato come chimico e lui era diventato importante per l'economia del Reich ci sono le foto c'è per esempio Dora Mittelbau il più atroce dei campi di concentramento e lavoro nel territorio tedesco a Dora Mittelbau costruivano le V1 e le V2 ad assemblare le V1 e le V2 furono anche molti prigionieri di guerra molti prigionieri dei lager tra cui c'è una famosa foto della catena di montaggio dei motori della della V2 in cui si vede una fila su un bancone si vede una fila di prigionieri intenti a montare i motori a razzo della V2 tra di loro c'è uno che guarda verso l'obiettivo è un professore francese che sabotava volontariamente i motori delle V2 masticando palline di carta e infilandole nei condotti del carburante nei condotti di alimentazione del motore usando un'astina flessibile avete presente le astine flessibili quelli dei serbatoi dell'olio insomma quelle per misurare l'olio nella macchina ed è riuscito a procurarsene una e con quella spingeva oltre la curva dei tubicini le palline di carta che masticava dentro questi tubicini per sabotare le V2 e riuscì a sopravvivere per raccontarlo e se molte V2 o esplodevano in volo o cascavano prima di raggiungere Londra diciamo che lo si deve anche a non solo alla pessima qualità del lavoro dei lavoratori schiavi vi lascio immaginare la voglia che avevano questi di lavorare per i tedeschi affamati impauriti vi lascio immaginare la qualità ma anche dei sabotaggi comunque sia ripeto le parole di Giovanni Cicini ci illustrano i meccanismi brevemente i meccanismi della economia predatoria e vampirica della Germania nazista e non si può definire altrimenti ripeto un concetto che ripeto che ho ripetuto più volte ma credo che sia la migliore definizione per la macchina bellica la macchina economica e industriale tedesca un'economia di predazione un'economia di rapina neanche coloniale parassitaria che si attacca come cioè come dire un fungo saprofita che si attacca alla corteccia dell'albero caduto e prospera e lo copre tutto e se lo mangia letteralmente questo era l'economia nazista insomma signori adesso come sempre tocca a voi qua sotto commentate fatemi sapere che cosa ne pensate datemi la vostra opinione su questa insomma su questa su queste considerazioni che ho fatto sul capitolo del libro di Giovanni Cicini ritengo che sia un fattore decisamente poco discutibile e penso che sia il caso di parlarne quindi cari signori ripeto qua sotto commentate fatemi sapere che cosa ne pensate se non siete iscritti se non siete già iscritti iscrivetevi al canale fatemi raggiungere prima possibile i 7000 iscritti così facciamo una grande festa se vogliamo e aspetto ripeto le vostre considerazioni le vostre obiezioni le vostre critiche i vostri pareri qua sotto nei commenti ripeto e come sempre arrivederci al mio prossimo video e soprattutto ciao ciao